Poracci, allora, complimenti vivissimi a io che si riconferma il più veloce di tutti nell'azzeccare Impossible Crisis, ma grazie a tutti quanti per avermi strappato più di un sorriso con le vostre risposte fantasiose. Ma il premio di miglior commento va a Dizzy Spook, che ci ricorda uno degli spot più assurdi mai usciti dall'Italia, un vero orgoglio nazionale. Bene, passiamo oltre. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, mi raccomando! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, da oggi anche con il supporto al Bluetooth. Finalmente, 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 Nintendo ce l'ha fatta. Con l'aggiornamento 13.0.0 del firmware di Switch è arrivata una feature attesissima da marzo 2017 e oggi non solo faremo una rapida ricognizione di tutte le novità che arrivano insieme a quest'update. Ma torneremo a parlare anche di Steam Deck, perché più ci avviciniamo all'apertura dei preorder, più la console di Valve diventa sempre più interessante. Non ci credete, lo so, ma ora proverò a farvi cambiare idea. Prima però, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto. Lasciate un like, ma soprattutto iscrivetevi al canale se siete nuovi. Dai, su, che vi costa? è gratis. Se poi, per qualche strano e inspiegabile motivo, avete intenzione di investire nella realizzazione di questi video, potete abbonarvi al Poreon, il Patreon dei Poracci. Trovate il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo da qualche notizia al volo e oggi, essendo ovviamente una puntata ricchissima, ce ne sono tantissime. Da dove iniziamo? Ma sì, partiamo continuando a parlare del Gamecube. Il cubetto ci sta sempre bene. Continuano i festeggiamenti in occasione dei 20 anni del lancio della storica console in Giappone, e tra i tanti ad aver omaggiato la scatola viola dotata di maniglia, c'è stato anche Phil Spencer, il capo di Xbox. Interrogato da Twitter Gaming su quale fosse il suo gioco preferito uscito su Gamecube, Capitan Phil ha risposto senza pensarci su due volte. Eternal Darkness, una scelta davvero buon gustaglio, un survival horror in esclusiva per la console Nintendo che è diventato una sorta di cult tra gli appassionati. Ora, qualcuno ne può fare un remake? Per favore. Per tutti i feticisti delle versioni fisiche dei giochi ho una piccola chicca per voi. Sul My Nintendo Store è apparso un premio insolitamente dignitoso. Si tratta di un portacartucce ufficiale che all'interno di un case standard può racchiudere ben otto schedine. Utilizzando 500 punti di platino è possibile portarsi a casa questa scatolina gratuitamente, aggiungendo però 7 euro di spese di spedizione. Nintendo, sei la solita. Mi pare comunque uno di quei rari casi in cui il collezionismo ed effettiva utilità dell'oggetto coincidono. Io il case l'ho già preso. Voi? Avevamo detto che settembre sarebbe stato un mese interessante. Ricordate, salta fuori che non solo Deathloop è un probabile gothi, ma anche Eastward è un mezzo capolavoro. Un action adventure, palesemente ispirato agli Zelda in 2D, ma che si sviluppa in modo radicalmente diverso. Ho letto solo recensioni entusiastiche e penso proprio che potrei fare la follia. Sono frenato solo dal fatto che potrebbe arrivare prima o poi una versione fisica. Voi pensate di prenderlo? E a proposito, ieri si parlava di Sonic Colors Ultimate e della nuova data in cui arriverà la versione su cartuccia qui in Europa. E mentre aspettiamo ottobre, SEGA ha rilasciato la prima patch per Nintendo Switch, che a quanto pare sistema alcuni dei bug più clamorosi, come i glitch che rischiavano di far venire gli attacchi epilettici. A comunicarcelo è Sonic in persona su Twitter, e non so perché, ma la cosa mi fa abbastanza ridere. Direttamente dal Giappone arrivano invece le prime recensioni di Lost Judgment, lo spin-off della serie Yakuza, uscito per la prima volta nel 2018. E indovinate un po', con un sonoro 38 su 40, anche questo episodio sembra essere un giocone, in grado di perfezionare e ampliare tutto quello che di buono si era visto nel primo capitolo. In uscita il 24 settembre, su qualsiasi piattaforma, escludendo ovviamente Switch, Lost Judgment è solo l'ennesima conferma che settembre è un mese infernale per i portafogli. Poi, se sei un poraccio, non ne parliamo. Rullo di tamburi, squillino le trombe, librate le colombe e stappatelo champagne. Nintendo è finalmente riuscita a pubblicare una major update del firmware di Switch, che aggiunge qualcosa di utile e richiesto dalla community da sempre. Quali sono le novità della versione 13.0.0? Scopriamole insieme. Il piatto forte di questo aggiornamento è sicuramente l'aggiunta del supporto all'audio Bluetooth. I data miner avevano già scoperto a inizio anno che qualcosa si stava muovendo in questo senso, ma ora è ufficiale. Tutti i modelli di Nintendo Switch sono in grado di collegarsi nativamente a cuffie, casse, auricolari e altri dispositivi che usano il modulo Bluetooth. Un passo in avanti gigantesco, considerando che la natura ibrida della console porta a giocare in situazioni dove molto spesso si è costretti a ricorrere all'uso delle cuffie. Questa aggiunta non arriva però senza le sue limitazioni. In pieno stile Nintendo, non saranno supportati i microfoni anche se integrati all'interno di headset Bluetooth, sia mai che si possa fare una voice chat semplice su questa console. No. E si potranno tenere al massimo collegati altri due controller wireless con il Bluetooth attivato. Inoltre non sarà possibile usare l'audio Bluetooth se si starà giocando con due console connesse tra di loro tramite comunicazione wireless locale. In ogni caso, la procedura di sincronizzazione è molto semplice e ci sono anche alcune funzionalità aggiuntive per regolare al meglio il volume. Questo non può che far ben sperare. Magari fra altri 4 anni Nintendo potrà aggiungere i temi personalizzati, le organizzazioni in cartelle e tante altre funzioni avanzate che richiedono sicuramente anni e anni di programmazione per essere implementate a dovere. Ma come dicevamo, non è tutto qui. Con la 13.0.0 arrivano altre interessanti aggiunte. In preparazione dell'arrivo di OLED è apparso un nuovo menu che permette di aggiornare il software delle dock con supporto alla porta LAN. Chissà cosa comporteranno questi update. Di base poi, ora Switch riuscirà a mantenere la connessione alla rete via cavo anche entrando in modalità riposo, funzione attivata di default e utile per scaricare software aggiornamenti tra una sessione di gioco e l'altra. Sempre parlando di connessione, ora si potrà verificare la frequenza del nostro Wi-Fi, se 2,4 o 2,5 GHz dalla voce e stato della connessione all'interno della sezione internet delle impostazioni di sistema. E per finire, un piccolo aggiornamento che potrebbe farci fantasticare. Nintendo ha deciso di cambiare il metodo di calibrazione degli stick. Che sia un primo passo per risolvere il problema del drift? Magari, cercando di contenere i costi, l'azienda potrebbe aver deciso di risolvere il problema non sul lato hardware, con una nuova revisione dei controller, ma cambiando piuttosto il funzionamento delle levette a livello software. Voi che ne pensate? Si aggiorna la PS5, si aggiorna la Switch, ma anche Steam Deck torna a far parlare di sé. Siamo ancora parecchio lontani dall'arrivo del PC portatile di Steam, eppure la sua soft-eca si fa sempre più interessante. La console potrebbe diventare la macchina definitiva per un'emulazione semplice e immediata, alla portata di tutti. La libreria di Steam ha infatti dato il benvenuto a RetroArch, un noto software legato al mondo dell'emulazione. Non si tratta di un vero e proprio emulatore, ma piuttosto di un contenitore che accorpa in modo semplice e intuitivo emulatori per le piattaforme più disparate e permette quindi di muoversi agilmente tra numerosissime retroconsole del passato senza il bisogno di avere particolari competenze tecniche. Senza RetroArch sarebbe stato comunque possibile installare Windows su Steam Deck e ricorrere a programmi esterni, ma capite che le cose iniziano a complicarsi parecchio per l'utente medio. Inoltre attraverso lo Steam Store si possono scaricare core aggiuntivi espandendo così ulteriormente il numero di macchine supportate in modo sempre semplice e intuitivo. Sì, insomma, è come se tramite la compatibilità con lo Steam Store si fossero appena aperte le porte per avere una virtual console gigantesca su Steam Deck. Che ok, non sarà un competitor diretto di Switch, si rivolge a tutto un altro tipo di utenza, però Poracci, non lo so, io sono sempre più convinto che potremmo trovarci di fronte a una vera e propria rivoluzione del mercato. Voi cosa ne pensate? E questo Poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo. Come al solito vi aspetto qua sotto nei commenti per farci quattro risate insieme e discutere delle notizie del giorno. Voi fate i bravi e nerdate duro, noi ci vediamo domani e io sono il Poro13, Michele Deck, ciao! Ehi ehi ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Porion, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Poracci benvenuti o ben...